Si è concluduto con la consegna e dai attestati il primo corso di Lenghe Furlani organizzato da Arlef direcciato ai giornalisti della regione. Il corso è tenuto di Michele Caligaris, alla viudù la partecipazione di un'eventina di giornalisti in grattis di collaborazione con l'ordine dei giornalisti. Presenza e consegna dai attestati, in più che è vertis di Arlef e dall'ordine, anche il Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, e l'assessore regionale Slenghis Minoritaris, Pierpaolo Roberti. E ho sentito il Presidente, De Arlef, Eros Cisilino. Presidente, vuoi la consegna e dai attestati del corso sulla Lenghe Furlani per gli giornalisti? Un bel risultato, un risultato importante? Assolutamente sì, un risultato veramente importante che ha avuto un impegno proprio in chieda della regione perché riguarda la formazione professionale, sede degli giornalisti, ma può dire che ha avuto anche da tanti altri settori. E che è una soddisfazione proprio perché ha avuto un grande impegno dalla stampa sul Furlan, vuol dire che si avuto anche una certa richiesta di banda della popolazione, ma anche dall'Università di Udin, dalla regione Stresa, ma anche di ens privati. Ma se che vuol dire che si arriva a spropita da plena attuazione al plan di politica linguistica, chi viene prontato e chi è in realtà di poco, insomma, un percorso virtuoso, che speriamo che potete andare in davanti e che a te di sempre poi sostegno. Ma insomma, viene buona base e speriamo di dare a chi si basi l'adeguata copertura. Una bella risposta dai giornalisti, ma anche le domande dal territorio. Sì, il territorio sta domandando informazioni per Furlan. L'informazione per Furlan non è come fa la partaglia, non è che uno può fare la comunicazione stampa per la partaglia e dopo volterlo, quindi traduzerlo per Furlan. Bisogna pensare per Furlan e per fortuna vi sono tanti giornalisti, che sono di marilenga furlana, che sono veramente professionali della loro attività e si sono metto subito a disposizione. Insomma, abbiamo avuto un numero veramente alto, un corso anche impegnativo, che è durato qualche mese, quindi insomma, vuol dire che hanno creduto, e hanno creduto anche i testati che li hanno metto a disposizione. Insomma, 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 un lavoro racconta non è creduto che proprio il popolo Furlan sarà contento di che l'impegno. Questa è stata la prima edizione del corso, e dopo? Sì, variano anche altre edizioni. Abbiamo chiesto che il Presidente dell'Ordine dei giornalisti Degano abbia dato la sua disponibilità all'indevante, ma una delle cose che, vi ho detto, è stata renduta disponibile è la possibilità proprio per i giornalisti di frequentare i corsi qui, proprietà orari, anche gli che normalmente sono impegnati dai loro testati giornalistici. Sì, vi ho detto che proprio tali è anche un crodi di banda dai gruppi che sostengono l'editoria Furlan. Casedi è un'editoria televisiva, Casedi è anche un'editoria cartacea. Quindi vi ho detto, insomma, che alle grandi interesse Iskugnin dà risposta.